ladies and gentlemen hold a young people this is showtime a belli de casa a belli mia iscrivetevi al canale abbonatevi al canale no profit se non vi piace il canale se non vi piaccio io se non vi piace quello che dico se non vi piace come lo dico se non vi piace da dove lo dico se non vi piace gigia cortesemente e tranquillamente levatevi dal canale e in un periodo dove la democrazia ormai è un sogno irrealizzabile pensate io vi lascio fare quel che vi pare avete sentito l'ultimo treno l'ultimo treno e poi c'è pure il rischio che pisto treno e poi non arrivi manco in tempo perché vi ricordo i jolly vi ricordo che poi ognuno fa come gli pare non ho fatto un video sul lazio torino perché la gente leggenti anzi no le persone non avrebbero capito anzi non avrebbero voluto capire il mio discorso perché sono ragazzi sapete sono due cose differenti si è tutti questioni del protocollo ma tanto il protocollo non rispetta nessuno ma nessuno ma nessuno a prescindere però va bene però sono due cose differenti e non voglio entrare nel merito vi dico solamente poi ritorno al treno sono due cose differenti perché per quale motivo perché in uno la lazio la stanno giudicando la giudicheremo la giudicheranno e aspetteremo che usciranno quello che decide la lega e lo stato italiano lo poi ci sarà lo stato europeo il co passeremo anche per il consiglio di ginevra onu e chi più ne ha più ne vede per quanto riguarda invece il discorso torino asl quello è un altro discorso indipendentemente da quello che è l'altro sono due cose differenti è come se in giorno vi piace annacco uno e di notte vi piace annacco una cioè sono due cose differenti poi se siete fortunati fate una cosa tutti insieme bella per voi però sono due cose differenti va beh lasciamo comunque questo treno dobbiamo piare nel senso ragazzi se questo lo perdi è finita c'è poco da di c'è poco da fa non la sto inventa io sta cosa è la matematica è ma ci stanno tante partite è vero ma sei settimo con una partita in meno che tanto te la faranno rigiocare per la per la felicità di molti e l'ingiustizia di cagliari parma e genova tanto noi la rigiocavamo spero di giocare e fare male a cairo non ai tifosi del torino a cairo io mi fisso sempre su dei dei target capito questa cosa che non potete capire come il derby era due tre mostra forte cairo con l'atalanta e gasperini non ai tifosi atalantini ma comunque non potete capire anzi non volete capire che è peggio è l'ultimo treno e poi è un treno che devi prenderlo di corsa fortunatamente è un treno che apparentemente sta andando lentamente quanti menti ha detto perché la juve è in emergenza perché perché gli mancano tanti giocatori ma questo non vuol dire che te la porti a casa da casa sicuramente sarà un po più difficile per loro l'ultima volta che abbiamo vinto al vabbè qua io ogni volta che vincemo o che riusciamo a portarvi a punti se no famo all'ultimo secondo potete andarvi a guardare quelli che volete o qualcosa di eclatante alla fine tipo rigore parato da da thomas proprio a paolo di bala sono sono sicuramente in debito però sono l'unica squadra in serie a che possono fare due tre squadre nel senso non è il livello della juve che conoscevamo ma comunque le loro riserve sono meglio delle riserve di molte altre squadre e forse anche dell'inter però quello è un altro discorso che io non affronto anche perché sennò quindi è un treno che sta un po rallentando la juve ma un treno che è sempre in treno poi se tu ti presenti quei soliti problemi e con la solita indecisione per quanto riguarda dietro purtroppo noi abbiamo infortunato oltre ai lunghi degenti della difesa abbiamo forse ci viene a mancare forse il migliore che c'avevamo a livello di stato fisico cioè lazari il che porterebbe marusic a destra e quindi fares a sinistra però purtroppo è stato è stato provato marusic e centrale a sinistra e che vorrà dire chi ci mette a destra è stato già provato a ca si potrebbe giocare per eira non lo so io preferirei fare perché a quel punto ti troveresti con la patrick a cerbi e marusic quindi su tre centrali che i centrali devono fare difensori noi c'è un difensore solo ma spero di no perché a quel punto come vi stavo dicendo te bruci tutto ragazzi è inutile è inutile il nostro problema è quello e lo sappiamo l'unica cosa che un po mi fa sperare in una goleata in un massacro da parte della grande juventus dell'armata bianconera contro di noi è che vedo che alcuni colleghi se vogliamo chiamarli così perché non mi reputo un lavoro comunque alcuni youtuber di fede bianconera se la sentono molto calda anzi molto calda sono contento per voi vabbè ma giusto così quello è l'essere juve quello è l'essere è la loro mentalità è la loro mentalità vincente perché fino alla fine perché noi siamo la juve e noi dobbiamo vincere è giusto così siamo costruiti per vincere è la nostra storia e così faremo perché comunque siamo la juve vero però occhio occhio eh che mi ho segnato comunque come andrà andrà va bene perché noi voliamo e l'altro gli piacerebbe ciao ciao